La violenza di genere è declinata in decine di forme da quella fisica che porta purtroppo spesso anche alla morte della vittima, quella devastante legata alla divulgazione di immagini senza il consenso di chi verrà poi denigrata, offesa sui social. Diversi temi affrontati sul webinar formativo organizzato dalla consulta provinciale degli studenti della regione Campania, a cui fra gli altri ha preso parte anche il procuratore Rocco Alfano, che ha concentrato il suo intervento sul contrasto alla violenza domestica e di genere parlando di prassi investigative del Codice Rosso. Particolare attenzione Alfano l'ha dedicata alla diffusione di immagini lesive della dignità della vittima, un reato punito severamente anche per chi le riceve e a sua volta le rente pubbliche. Per evitare che una vicenda privata diventa strumento di persecuzione non tra i due solo soggetti, quindi immaginate la declarazione dal punto di vista del danno causato in una comunità più o meno ristretta, immaginate le chat che ognuno di noi ha, o in una comunità indistinta, immaginate Facebook o altri social media. Il fenomeno è fondamentale e quindi è importante che ci sia stato il legislatore a colmare questo vuoto normativo. Per il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno molto è stato fatto per contrastare la violenza di genere, ma c'è bisogno di un altro passo in avanti arrivando a quello definitivo del cosiddetto doppio binario. Cioè avere una corsia che non solo consenta di fare entrare la vittima che ha bisogno di assistenza velocemente nel pronto soccorso, codice rosso, ma bisogna anche fare in modo tale che quella vittima non resti al pronto soccorso, ma passi in sala operatoria immediatamente. In sala operatoria intendo la possibilità di tutelare con misure immediate la persona offesa, misure cautelate. Mi riferisco in particolare al divieto di avvicinamento alla persona offesa vittima di stalk, di atti persecutori, di maltrattamenti. Perché non pensare al fatto che possa essere sufficiente per l'applicazione di una misura cautelare di quel tipo e solo di quel tipo un quadro indiziario non più necessariamente grave, così come è previsto attualmente, ma anche un quadro indiziario sufficiente. Infine, citando Borsellino, l'appello del magistrato è a un cambiamento fondamentale per combattere questo tipo di reato che passa per un'evoluzione che si trasformi in un movimento culturale. Scusate, dobbiamo far passare alle nostre generazioni, ai nostri figli, l'idea che rispetto la libertà ha profumo, la violenza, l'abuso è un puzzo insopportabile e non più perdonabile. Grazie.